Onorevole Pignasca, vuole rimanere qua di guardia? Una domanda di M, non mi vado a risponderti, prossima domanda. Sui rumeni, cosa ne pensa? Allora, i rumeni sono detto fuori che negli ultimi due mesi ci sono stati 115 furti del Medrisiotto e ora che questi belli busti qua vengano rispariti nel loro paese d'origine. Mi sembra che l'Italia li sta mandando a Romaria, la Francia li sta mandando a Romaria e che noi questi qua o li mettiamo per dieci anni in prigione, altrimenti facendo del crudo ci fuori male. Punto a capo. E sui ristori dei frontalieri? L'altro sì, ah, ah, i frontalieri, i frontalieri fuori male a calore. Oltre molti ci toglie dalla lista nera, altrimenti noi chiudiamo la frontiera e ogni mattina creiamo una colonna fin giù a Milano e non facciamo passare nessuno. Capito? Perché 50.000 frontalieri in Ticino sono già troppi. Se passa ancora uno, quando io metto giù al muro, tirano sul muro a accesso e passa pieni su. Punto a capo sto. Cosa ne pensa del battaglione 30? Battaglione 30 è una domanda di Eberto.